Musica Un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte Allora, oggi, oltre a guardarmi insistentemente questo cerchietto con queste ali di pipistrello Che mi rende anche un po' stupidina, un po' cretinetta, un po' giuggiolona Non lo so che cosa mi rende, perché insomma a più di 30 anni uno non si può ammettere una cosa del genere Però vabbè, mi piacevano, le ho prese Perché dove sono andata? Sono andata a fare la spesa da Lidl E dove c'erano tutte queste decorazioni di Halloween E quindi come non prendere questo cerchietto con queste paghiette nere E' proprio carino, sembra che ho due corna, ma va bene uguale E questa è anche un po' la mia proposta Che oggi con questi capiti mi sembra proprio mortissia Mortissia Addams E quindi, e niente, ecco, questa è un po' la mia anche proposta di trucco Io volevo subito farvi vedere le cose che ho comprato E partiamo subito da questa qui Che è un carinissimo, delizioso vasettino di Halloween, grazie Quindi arancione con il gattino e la zucca Cioè, io dove vedo gatti devo prendere Quindi, penso, c'era tutto questo vasetto Mi chiamava, mi chiamava e l'ho preso Questo vasetto l'ho pagato 2,99 euro L'ho preso anche a mia sorella E... chi se ne frega Ma bello, era per dirvelo, insomma Poi ho comprato questa candela Dentro questo bicchiere arancione Con tutte queste decorazioni Quindi i pipistrelli, l'albero, la casetta abbandonata Con il fantasmino all'interno Gattino, immancabile E streghetta Ecco, no, quindi sarà la casa della streghetta E niente, mi dispiace un po' il riflesso delle luci Però, insomma, si capisce, si vede che è molto carina E questa candela, io l'ho pagata 1,99 euro C'era anche un'altra con le ragnatele E un'altra che non mi ricordo, ma va bene Comunque erano molto carini E ho comprato questi adesivi qua Allora, questi sono dei super adesivi Guardate che carini Sono degli adesivi praticamente enormi Che sono fluorescenti, ovviamente E non sono particolarmente spessi Assolutamente E sono molto carini Cioè, a me è piaciuto Perché ho proprio intenzione di metterlo Sulle finestre O sulle tende, quelle trasparenti Del mio balcone E quindi, insomma, mi piaceva Mi piaceva E poi, quest'altro Set qui di adesivi Questa volta invece è 3D Ma guardate che carino pure questo Questo è carino, eh Cioè, non che l'altro non sia carino Questo è carino perché poi è pure colorato È bello cicciottoso E con la casetta, insomma I fantasmini è carino E questi due Io li ho pagati 2,99 euro Insomma, sono veramente grandi Veramente carini E insomma, ci stavano tutti Bene Poi, ho comprato Adesso non so più dove mettere la roba La appoggiamo per terra Poi, ho comprato Altri adesivi Eh, però Questa volta più piccini Quindi adesivi Per decorare, insomma Le agende I planner E via dicendo Allora, ho comprato Questi adesivi qui Che sono praticamente Due fogli In teoria di roba Se non tre No Due fogli Quindi davanti Abbiamo questi qui Carini anche questi, eh Tutti un po' sbrilluccicosi Oddio la luce Tutti un po' sbrilluccicosi E davanti abbiamo Questi qua Buffetto Ehm Sì, 3D Perché sono quelli un po' più Cicciottosi E sono molto carini E li ho presi subito Poi Ho comprato anche Questi altri adesivi Sempre fatti Con Il sotto Questi Qui Quindi Più col gatto nero E la zucca E poi Questi sopra Con La zucca Sempre in 3D Zucca E fantasmino Anche questi carini Eh, sono carini Sono carini Ragazze E Li ho pagati 1,99 euro L'uno Lascio i capelli Ehm Carini, eh Sì Ve li faccio rivedere Sono carinissimi Poi Hanno attirato La mia attenzione Questi adesivi Con LED Incorporato Praticamente Partiamo Ma Partiamo da questo Sono fatti così Sono queste cosine Tonde così No? E io comunque Ve la voglio aprire Questa per farvelo vedere E Che cosa In che cosa consiste Perché lo voglio vedere Anch'io Ok Perfetto Quindi questo è proprio Tutto L'adesivo Ok Che comunque Ha uno spessore Perché all'interno Ha questo LED Voi togliete tutto Questo Ovviamente Diventa adesivo E se poi andate a cliccare Che carino Vabbè Madonna A me è piaciuto tantissimo Che devo fare È tutto carino Non lo so Vabbè Basta e vi faccio vedere anche gli altri che ho preso, me li sarei presi tutti però diciamo che ho preso quelli che erano secondo me più bellini ho preso questo qui, quindi un altro gattino immancabile proprio, immancabile e vediamo anche questo acceso che effetto fa che carini ma no, sono carinissimi e questi io li ho pagati 0 euro, 99 centesimi cioè, 99 centesimi ma sono carinissimi cioè, sono carinissimi ragazzi e l'ultimo, questo pure è carino è dolce è fatto così oddio eccolo guarda che faccia che c'ha che carino sembra che ride oddio vabbè questo è scema cioè, chi apre il video magari, non so, manda avanti mi becca qua e dice, ma questo è scema sì, sono scema tanto che non mi ricordo il pipistrallo il papà di Renzi no, Renzi la strega chi è che si vede ancora che si vede ma guarda io se la becco la vedo o comunque chi è che si vedeva Renzi la strega alzi la mano Renzi una strega vabbè basta e non devi far così perché sembri veramente stupida ok, bene poi che cosa ho comprato? ho comprato due cose che sono due decorazioni in feltro allora, la prima è questa vi faccio vedere solo come si presenta di confezione dico ed è praticamente un centro tavola con i teschi e ve lo faccio vedere io ancora non l'ho aperto e aspettavo tanto di aprirlo e secondo me è molto ecco no ok è molto carino allora vediamo lungo ancora lì oh che ma che oddio ma non pensavo fosse così lungo ma che mi sono sbagliata ma come nella foto che c'era sulla newsletter è una cosa così cioè è una cosa è una cosa lunghissima ragazze ma che carino è una cosa lunghissima ragazze che non entra nell'inquadratura abbiate pietà se ci sono le dimensioni io ve le dico volentieri ho visto l'etichetta ma l'ho sognata no l'ho vista non c'è ah sì è 100 mamma mia 119 per 30 cm io non ho capito che cosa ho visto sulla newsletter ma comunque ma guardate che carino è carinissimo cioè è carinissimo nel senso è carino per Halloween cioè sono tutti questi teschietti qui sono fatti benissimo buonissimo proprio carino madonna non vedo l'ora di metterlo ah a proposito io poi se vi fa piacere nel momento in cui comunque diciamo allestisco ma vabbè un po' la mia camera il mio balcone perché sono le uniche parti che insomma addobberò per Halloween Halloween magari io faccio delle fotine e le metto su Instagram se vi fa piacere andatela a vedere se no non andate a vedere non vi ho detto il prezzo che è di 4,99 euro poi sempre a 4,99 euro l'altra cosa l'altro set questo è proprio un set di decorazioni in petro è questo qui ok? e ce ne erano due e io ho preso questi gli altri erano tutti composti da queste figure piccole con il gancetto però io ho voluto fare un po' un miso perché qua c'è sia decorazioni con il gancetto che decorazioni grandi e niente questo si apre così allora allora quindi ci sono le zucche che sono tre e questa qua vedete? è carino questo c'è la pelle un po' dotipare dotipare è proprio questo è romano doc proprio e poi due fantasmini bianchi carino molto e poi ci sono ma guardate che carino ci sono due gufetti neri ecco perché i gufetti mi sembra che di là non c'erano però non ne vorrei non vorrei dire castronerie guardate che carino questo proprio cioè li spargi un po' ovunque queste cose sono due poi abbiamo due ah no no scusate i fantasmini erano tre eh me ne ho perso uno per strada poi abbiamo che abbiamo oh che carina abbiamo due streghette fatte così che carina mi piace tanto carina carina e poi sempre due streghette ma con la luna che ride sghignazzando ed è un po' più grandicello molto carina no non mi non mi penta assolutamente di aver comprato questo set sono due e per finire abbiamo due di queste sempre po' grandicelle con la ragnatela e il ragno ma che carino eh carino 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 poi questo funge anche questo da diciamo centro tavola no tu lo puoi mettere anche no però vedi lo posso mettere anche nel tavolo della cucina il salone sì sì carino carino mi piace e sempre 4,99 euro ve l'ho detto che carine ma sono proprio contenta ok poi niente ragazzi è già finito per Halloween eh no guardate io mi sarei comprata tutto però vabbè dico ben detta ti devi dare una regolata quindi e queste sono tutte le cose ma io ho preso anche un'altra cosi altri due cosini vi volevo far vedere velocemente eh perché allora in verità ero andata anche per comprare mi ah e poi scusate questo bellissimo cerchietto che l'avete visto e lo state vedendo da troppo anche tempo ormai e questo cerchietto l'ho pagato 2,99 euro ma secondo me è carinissimo vabbè già ve l'ho detto e poi no quello che volevo dirvi è sono uscite delle cose insomma per l'autunno quindi pigiami coperte paraspifferi e i pigiami sono andata lì e praticamente erano passate le cavallette perché non c'era più niente e quindi la L neanche proprio col binocolo e alla fine mi sono comprata questo questo paraspiffero guardate che carino con i cuffietti oh pesa eh pesa perché c'è la sabbia caspiterina ecco eh che carino io lo volevo far vedere intero ecco lo metto così forse così lo vedete bene carino eh e l'ho pagato 6,99 euro ma guardate che carino che cosa c'ha questo ah c'aveva un pezzo di feltro ecco ed è carinissimo c'erano con i gattini con le stelline i cuoricini insomma molto carini e poi infine vabbè una cretinata ho preso queste linee a 1,19 euro l'una composte da 66 pezzi in queste bellissime scatole cioè ma sono veramente belle io non potevo lasciarle lì perché comunque le veline si usano sempre il prezzo andava bene e quindi ho preso questa questa si guarda che carina e poi questa qui ho il verde acqua che voi sapete che sto adorando in questo periodo ok e 1,19 e l'una ed ecco qua ragazze queste sono tutte le cose che mi sono comprata ma ripeto mi sarei comprata tanto di più e niente io spero che comunque vi abbia tenuto un po' compagnia mi sento sempre un po' stupidina con questo cerchietto in testa però è tanto carino e quindi niente ragazzi io vi ringrazio per aver visto questo video se vi fa piacere ci vediamo nel prossimo e un saluto a tutti quanti voi che vi trovate dall'altra parte a tutti